Salve a tutti! Benvenuti in questo nuovo video recensione! Eatway BK10! Legale, economica e con buone prestazioni! Ma andiamo a scoprirla! Let's go! Grazie a tutti! Salve a tutti ragazzi! Nuova video recensione! Eatway BK10! Una e-bike 20 pollici in due colorazioni! Questa che vedete nera ed arancio oppure nera e verde disponibile sul sito della Eatway, una bici con un peso netto di 27,7 kg, motore al mozzo completamente legale 250 watt ma molto potente con 58 newton metri di coppia capace di affrontare qualsiasi salita! Ricordiamo che la batteria che alimenta questo motore è una 36 volt 12 ampere ora con potenza di 432 battute, ruote 20 pollici per 4 con pneumatici tassellati per qualsiasi tipo di terreno corredate da freni a disco meccanici con dei rischi da 160 mm bici equipaggiata con doppio parafango in alluminio e il set urban è completato con un portapacchi capace di aumentare la capacità di carico di 25 kg abbiamo un ammortizzazione con singola forcella su ruota anteriore una forcella basica molto semplice su cui non abbiamo né la regolazione del precarico e né la possibilità di chiudere la forcella stessa mentre come set di impianto luci abbiamo un faro anteriore un po' piccolo ma che produce un'ottima luce a led con una discreta visibilità notturna e invece per quanto riguarda il set posteriore abbiamo uno stop con doppia segnalazione di freno e di illuminazione in dotazione c'è un set di pedali con un buon grip ma completamente in plastica pedali pieghevoli che ci permettono di ottimizzare lo spazio e ridurlo per portare la bici sui mezzi pubblici o per una semplice fase di stoccaggio tubo reggisella ammortizzato è una sella molto comoda e imbottita con flusso d'aria centrale mentre per quanto riguarda il piantone di sterzo per una maggiore comodità è completamente regolabile in altezza cambio shimano tourney sette rapporti un cambio mono corona con comandi allo sterzo dove abbiamo delle manopole in plastica con un buon grip e il display multifunzione s 866 il tutto installato su un manubrio completamente dritto ed eccoci qua in studio per le considerazioni finali i tuoi bk 10 una city bike 20 pollici pieghevole e versabile a vari tipi di terreno la sua forza e la qualità prezzo infatti potete trovarla in sconto adesso a 799 euro e vi lascio il link in descrizione dopo una settimana di utilizzo questa bici ci ha stupito per due motivi il primo motivo perché essendo una bici a 250 watt 36 volt risulta davvero potente e arriva legale a 25 km orari ma farà 25 km orari sia in pianura ma anche in salita e la seconda è perché il tubo sella ha un ammortizzatore che è davvero buono e riesce ad utile anche dorsi o con sconnessioni stradali il telaio è robusto ed è molto simile a quello di tante altre biciclette elettriche per quanto riguarda la batteria è una batteria interna estraibile 36 volt 12 ampere che ci permette di percorrere 40-50 km orari invece per quanto riguarda la sua portata la bici ha una portata massima di 120 kg per quanto riguarda i freni si poteva fare meglio sono dei freni semplici meccanici però facendo caso che la bici è 250 watt quindi ha una velocità massima di 25 km orari i freni lavorano sufficientemente bene i vitali di questa bici sono in plastica però sono pieghevoli quindi è molto più comodo trasportarlo sia in auto che nei mezzi pubblici una nota positiva sono gli attacchi della componentistica elettrica dallo stop fino al cut off dei freni sono tutti quanti quick release quindi praticamente possiamo staccarli senza arrivare in centravina per concludere le ultime tre cose la prima è che questa e-bike è sprovvista di acceleratore quindi è 100% legale la seconda ha il walk assist quindi potete attivarlo con la pressione prolungata del tasto meno sul display e la terza che la batteria è davvero fatta molto bene rispetto alle stesse bici della stessa categoria se il video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciate un bel like per supportare il canale ragazzi iscrivetevi e sbondate la campanellina per essere sempre aggiornati su tutti i nostri contenuti ciao